Il calcio a Tortora non può e non deve morire, soprattutto dopo 50 anni di storia. Nel 2016 ricorre la partecipazione al primo campionato, quello del 66-67 di seconda categoria. Per questo motivo una piccola cordata di cittadini e tifosi ha deciso di entrare in gioco e mantenere alta la tradizione calcistica nel paese. La storia della società sportiva Tortora, in particolare quella più recente, è nota. La presidenza Matellicani ha condotto la squadra fino al campionato di seconda categoria. Dunque la staffetta delle scorse settimane, con i vertici del progetto Talento Go con Giuseppe Di Lascio. Iniziativa fanno sapere dal tavolo di presidenza convocato ieri sera in sala consigliare, che per diverse ragioni non è mai decollata, dunque il provocatorio passo indietro della neodirigenza. Dietro a front, che implica però la non iscrizione alla seconda categoria, e così come spiegato da Luigi Morrone, portavoce della cordata, quasi per caso o per sbaglio siamo arrivati noi con un obiettivo molto chiaro. Dare continuità allo sport qui a Tortora, un passo che vuole però aprirsi alla collaborazione, spiegano i promotori dell'incontro. Parte così un tour de force di confronti con la rosa dei giocatori, con l'amministrazione comunale, tutti impegnati per qualche giorno, a trovare la soluzione ottimale per non far scomparire il calcio dell'Umberto Nappi. Alla fine, come ribarito, sono state tante le mediazioni che hanno condotto alla salvezza, e quindi al passaggio di categorie, cioè dalla seconda alla terza. Alla fine il Tortora è scritto ed è salvo. Ora pertanto si dovrà definire l'organigramma societario e passare da una gestione protempore ad una ordinaria. Ieri, seduti al tavolo, c'erano i fautori della prima salvezza, potremmo dire quella burocratica, che in un modo o nell'altro permetterà alla rosa di scendere in campo, giornata dopo giornata. La bandiera del calcio locale è Alessandro Martino, figure storiche come Rocco Martino e Biagio Iorio, ed infine Luigi Morrone, proveniente dalla gestione del calcio giovanile con le notria. Daniele Morrone, a garantire la fattiva partecipazione, anche l'ex di talento Go Giuseppe Di Lascio, presente all'incontro, in rappresentanza del comune, l'assessore Biagio Praino. Come sempre garantiremo il nostro apporto alla società, il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto, e cioè salvare il calcio. Ora tocca a tutti noi, a ribadito Praino, dare il massimo per celebrare alla grande i 50 anni di storia. C'è in programma una manifestazione che coinvolgerà ai tifosi le vecchie glorie appassionati di calcio. Insomma è questa la volontà di tutti, essere presenti con un maggior attivismo rispetto al passato, cercando ed essendo promotori di uno spirito collaborativo, quello che forse è mancato in questi anni. A rappresentare il suo malumore, legato soprattutto al disinteresse per le sorti del pallone a torto, rannotato in questi anni di dirigenza, l'ex patron della società Franco Matellicani, mi sarei aspettato un maggior coinvolgimento, soprattutto in quella fase più critica, da chi invece, ed il riferimento va di lascio, ha ottenuto da parte nostra una società sane a costo zero. Messe da parte le critiche, tutti sono stati chiari, iniziamo a lavorare per aggregare quanto più possibile attorno al nostro progetto. I ragazzi della Rosa, con a capo l'esperienza del capitano Alessandro Martino, sono già a lavoro con il mister Massimo Lisco, extortora. Tutti aspettano con ansia la data della prima giornata, e per quel giorno non vogliono farsi trovare impreparati.